Sono il compagno della signorina Ludovica Troisi. Ludovica, a che scuola frequenti? La seconda media. Ah, ho capito. E diciamo, come ti trovi in scuola con i tuoi compagni, con i professori? Bene. E che voti hai? Medi. Quindi da questo anno scolastico ti aspetti un miglioramento oppure rimarrai comunque stazionare come l'anno scorso oppure sei migliorata anche negli anni precedenti? Un miglioramento. Va benissimo. Adesso fare un saluto agli amici di Campania Tiu.